Grazie a voi per essere qui questa sera e grazie Enzo di essere con noi per questa conversazione su temi così importanti e di attualità come vedremo. Regalarci un momento di ragionamento in questi tempi di smarrimento è importante, lo facciamo con Enzo Bianchi che non ha bisogno di presentazioni e Astigiano classe 1943 è stato fondatore della comunità di Bose e sapete ha avuto negli ultimi anni delle vicende complesse che hanno sicuramente fatto anche soffrire Enzo Bianchi che ci hanno dato un'idea di chiesa che in molti ha generato delle perplessità. Adesso Enzo ha ritrovato una certa serenità nella fraternità che si è ricostituita nella casa della Madia, nelle pore biese. Io vorrei proprio partire di qui caro Enzo perché la comunità che è al centro del ragionamento di radici ti ha dato gioie ma anche grandi sofferenze come i fatti recenti ci hanno raccontato eppure tu resti assolutamente un innamorato della comunità anzi meglio della fraternità come quella della Madia che hai appunto recentemente formato. Ma perché questo? Perché sei ancora adesso nonostante tutto innamorato di una comunità anche se magari ti può far star male. Beh buonasera a tutti voi e sono contento di poter conversare con voi su questo tema che non mi è solo caro ma è un tema che attraversa la mia vita. Le mie fibre oserei dire sono nient'altro che il risultato di questa convinzione che riguarda la vita la vita comune, la comunità, il vivere insieme. D'altronde anche in quel che dico, in quel che scrivo, la frequenza delle parole insieme, comunità, vita comune, è una frequenza altissima così come prevale sempre nei miei pensieri il noi rispetto all'io. Le ragioni certamente sono molte e non credo neanche di essere consapevole delle radici di tutte queste convinzioni. Certamente la biografia conta per tutti. Lo sapete, noi non nasciamo già fatti né con un destino che ci viene dato e che come un fatto diventa semplicemente il cammino che dobbiamo fare. No, ci sono nella nostra vita eventi, incontri, persone, storie che ci plasmano. Noi siamo degli esseri plasmati, non ci facciamo da soli. E credo che allora anche i dati biografici siano significativi. Vi do dei cenni. Ho sempre letto nell'ambiguità di una disgrazia, ma di una grazia, l'essere stato orfano a otto anni. Io amo pensare che disgrazia è dis, ma contiene la grazia. E credo che questo sia stato per me importante. L'orfanità, soprattutto materna, su un bambino di otto anni, è una ferita che non si ribargina mai e che difficilmente diventa una cicatrice. sanguinerà tutta la vita, ma è una grazia, perché obbliga, plasma la persona a vivere altrimenti. e credo che quello che io verifico e riesco a leggere, certo, con una lucidità, negli ultimi anni dell'anzianità, che non potevo avere a venti, a trent'anni. Il fatto di vivere in una famiglia strana, da parte di mio padre non cristiani, atei, anticlericali, da parte di mia madre, cattolici, e cattolici non bigotti, attenzione, non devoti, per cui ho dovuto convivere con delle convinzioni in casa molto differenti fin da piccoli e costantemente scegliere le opzioni di mio padre o quelle eventualmente di mia madre. E vivere la differenza e accettare che si è differenti e cercare di capire le ragioni dell'altro e finire per non demonizzare l'altro. Ecco, credo che questo è un dato autobiografico insieme al fatto di essere figlio unico che mi ha dato nostalgia di un vivere della differenza, di un vivere non da solo, di vivere in comunità. Certamente. ma credo che poi gli anni hanno contato. Per quello di voi sorriderà, ma io credo che è vero che sono di quella beata generazione del 43 che è stata la generazione che ha avuto un ventennio un ventennio straordinario pieno di speranza pieno di passione la formula beata generazione del 43 credo che la conosciate ormai non è è abbastanza dell'Europa occidentale comune ma è il titolo di un libro significativo di Mario De Alio beata generazione siamo stati una beata generazione con possibilità che le generazioni attuali non hanno per cui fortunate a 19 anni mi sono ritrovato a poter fare ciò che oggi credo difficilmente si farebbe ma con una vespa di stare nel deserto del Marocco o di lambire addirittura la Siria e la Turchia era un tempo di libertà era un tempo in cui si osava e c'erano grandi passioni queste mi hanno costruito mi hanno fatto conoscere culture diverse non ho mai avuto paura dello sconosciuto dello straniero e attenzione tutto questo in una condizione di povertà mio padre faceva lo stagnino stagnino significa uno che mette lo stagno alle pentole eravamo una famiglia povera ma con queste grosse possibilità ecco perché quando ho avuto un po' di soggettività sono mai riuscito a vivere da solo e qui a Torino appena arrivato all'università significativamente nel momento in cui finivano i gruppi e a Torino soprattutto si scioglieva la FUCI che era l'organizzazione giovanile cattolica io costituivo un gruppo alternativo il gruppo di Via Piave ma che radunava attenzione dei protestanti degli ortodossi greci che studiavano a Torino oltre i cattolici 62 63 vedete insieme la differenza il tentare la comunità diventava qualcosa per me quasi naturale e poi tutta la mia vita è stata costruita con questa speranza ho anche visto i limiti della comunità cui accennava prima Antognoli le ferite la comunità attenzione è una gran cosa merita veramente di dire che c'è una grandezza ma nella comunità c'è anche una gran miseria perché gli uomini e le donne sono uomini e donne di ogni giorno non è che la comunità cambi cerca semplicemente di mettere dei paracarri dei segnali sul cammino della vita e anzi nella comunità a volte si esasperano i conflitti posso dire qualcosa che spaventerà qualcuno di voi ma sappiate che nella comunità soprattutto religiosa si può arrivare a una cattiveria che le persone normale non conoscono perché le persone normale voi nel conflitto alla fin fine se arrivate anche all'odio al rancoro vi sentite protagonisti gli uomini e le donne religiose nel conflitto sentono pensano che Dio è dalla loro parte quindi odiano con il loro odio aggiungendo l'odio di Dio e sono doppiamente cattivi ricordatevi state attenti dall'odio degli uomini religiosi senti Enzo è tutto molto interessante quello che ci hai raccontato ma vorrei introdurre il concetto di identità perché oggi questo concetto dell'identità è utilizzato come un manganello perché talvolta ricercare l'identità e i suoi segni è come dire un porto rassicurante soprattutto oserei dire per chi è fragile psicologicamente e allora chi vuol vivere la comunità la sua comunità sia questa religiosa o non solo da uomo e da donna maturi ecco come deve vivere l'identità ma di questo posso dire che ho quasi 60 anni di esperienza e mi sono sempre chiesto chi veniva in comunità perché veniva qual era la ragione che lo spingeva a una vita altrimenti diversa che significava rinunciare alla storia d'amore a una vita come la fanno tutti per scegliere una vita particolare diversa comunitaria che poi sia religiosa ma guardate ho avuto esperienza anche nei kibbutz in Israele negli anni 67 quindi vi parlo pensando a una certa pluralità di comunità allora a volte l'andata in comunità contiene molte ragioni che sono nascoste e che sono molto ambigue vi posso dire quante volte ho scoperto che chi voleva venire in comunità voleva semplicemente ad esempio fuggire da casa una madre o un padre opprimente la casa sentita come una prigione allora uno vede la comunità vede gente che vive insieme quindi non va nel vuoto della solitudine entra in una comunità e si libera della prigione della famiglia il problema è che queste persone dopo qualche tempo ricostruiscono in comunità esattamente le schiavitù che avevano a casa il capo comunità diventa il padre opprimente e così via e quindi sono passi falsi che si fanno non è detto che la scelta della comunità sia una scelta positiva ci vuole molto discernimento e ci vogliono persone che dissuadono io vi devo dire che ho sempre lo testimoniano tutti quelli che hanno dovuto fare con me a Bose a quelli che volevano venire a Bose e subito veniamo in comunità calma il minimo gli dicevo hai un lavoro no cosa hai fatto ho studiato beh va a lavorare un po' mettiti fuori casa pigliati un alloggio vivi da solo autonomo poi ci rivedremo perché altrimenti il passaggio è facile e il salto della maturità della soggettività rischia di non esserci quindi è un rischio l'altro problema è persone che sono fragili di identità e se la comunità ha un'identità forte vogliono entrare in comunità per avere un'identità che loro hanno mai avuto sono quelli che facilmente entrano in comunità che hanno un andamento settario il capo è come il guru che determina tutto uno di quelli che dice a te cui Dio dice niente io ti dico il ragionamento è questo soprattutto nella vita religiosa sono prede io le chiamo le prede piacciono alla comunità perché fa adepti loro si sottomettono facilmente perché sono dei soldati ma non vivono in libertà non vivono felici un giorno guardate avevo vent'anni e mi sono accostato con molta paura alla Chartres in Francia nel massiccio centrale e avevo chiesto di parlare col priore certosino e il priore in quel colloquio mi disse se uno cerca di fare di un altro uomo una vocazione si ricordi che non fa un santo fa un miserevole in più su questa terra è miserabile amplis sur setter me lo dimenticherò mai è certo senti forse nel nostro ragionamento dovremmo fare un passo in avanti ragionando su identità e religioni perché qui c'è il tema delicato della della verità c'è chi ha scritto e ragionato per esempio sulla violenza intrinseca delle delle tre religioni monoteistiche perché se interpretate in un certo modo ognuna è portatrice di una verità assoluta più verità delle altre verità ecco vorrei chiederti come la vedi proprio adesso che abbiamo il cuore sgomento per quello che sta succedendo in Israele dove in questo secolo che è iniziato con lo scontro delle civiltà con l'attacco alle torri gemelle e dove poi ricordate Oriana Fallaci aveva scritto l'Arabia e l'Orgoglio che aveva coagulato tutta una serie di ragionamenti e allora ecco come la mettiamo come come hai ragionato tu in questi anni ecco da monaco da studioso sulla questione della verità ma quello che tu adesso riferivi diciamo che è una volgata attestata a cui in tanti aderiamo le tre religioni monoteiste ebraismo cristianesimo islam di fatto nella storia hanno mostrato la capacità di una violenza significativamente tutte e tre hanno teorizzato la guerra santa fino allo sterminio totale per cui si può dire e si dice che là dove c'è il Dio unico il Dio unico non sopportando gli altri dei finisce forzatamente per per o chiudilo tranquillamente è un'invasione della modernità nelle tue riflessioni io ero una molto molto consuetudine con questi apparecchi quindi non ti preoccupare e quindi indubbiamente c'è questa visione però oggi cosa scopriamo che nella storia prima di Israele i popoli del Medio Oriente che erano politeisti con molti dei praticavano la stessa violenza possiamo dire che Israele ha praticato la violenza semplicemente ispirandosi ai popoli che aveva trovato prima nella sua terra nella sua terra nella terra che lui ha preso ha conquistato e i popoli vicini non diversamente quindi la violenza nasce dal Dio unico oggi non si è più di questo parere la violenza nasce dalla miscela politica religione che un'altra cosa là dove la politica si tinge di religioso certamente la violenza diventa qualcosa di epifanico l'ebraismo poi se voi leggete l'antico testamento ci sono quelle pagine terribili nel libro dei giudici nel libro di Josué in cui nella conquista Dio ordina il cosiddetto interdetto cioè che un villaggio quando è preso sia distrutto siano uccisi donne uomini bambini vecchi e addirittura gli animali addirittura siano divelte le piante e la strage permettetemi di dire cosmica ma oggi noi sappiamo che questi fatti sono relati molto più tardi in realtà non sono storia vera e propria del dodicesimo undicesimo secolo avanti Cristo e comunque in un tempo in cui Israele non era monoteista perché Israele è diventato monoteista credendo in un solo Dio soltanto nel seicento con Giosia soltanto nel seicento avanti Cristo ma per tutti i secoli precedenti c'era certamente un Dio che era il Signore quello del tetragramma Yahweh ma ce n'erano altri che erano gli dei anche dei popoli vicini e Israele era idolatra quanto al cristianesimo è stato prima perseguitato dagli ebrei ma attenzione dobbiamo dire la verità non in una maniera gravissima diciamo che gli ebrei i giudei hanno fatto ostilità verso i cristiani che nascevano e con ogni probabilità c'è scappato qualche morto qualche martirio ma che si possono contare sulle dita dell'Avano ma quando il cristianesimo è diventato la religione dell'impero romano il cristianesimo ha dichiarato la persecuzione degli ebrei e più ancora di tutti i pagani chiedendo di distruggere i loro tempi di uccidere i loro sacerdoti l'uccisione di Ipazia questa straordinaria donna d'Alessandria è uno tra i tanti assassini fatti da monaci e da preti cristiane e poi arriviamo al tempo delle crociate e c'è la guerra santa ma era già nato l'Islam cosa possiamo dire di differenza per non concludere in maniera superficiale i tre monoteisti sono uguali questo bisogna dirlo anche se sembra poco ecumenico ma io quel che devo dire lo dico mi conoscete primo nell'ebraismo c'è effettivamente l'ordine di uccisione di strage dei popoli in guerra con Israele c'è l'odio del nemico predicato c'è nel cristianesimo i testi sto parlando mai 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 al contrario Gesù chiede di dare l'altra guancia a chi dà uno schiaffo su una nel cristianesimo c'è la non violenza la non violenza l'amitezza assoluta fino alla non difesa per l'offesa ricevuta nell'islam fin dai versetti del corano di maometto si parla di guerra santa e si parla di uccidere gli infedeli ricorderete tutti che il povero benedetto sedicesimo era un ingenuo ve lo dice chi lo conosceva bene egli era amico il tipico ingenuo intellettuale ha osato dire a Ratisbona citando un testo del medioevo che il patriarca di Costantinopoli aveva chiesto al grande capo Iman nelle nostre scritture cristiane non si trova violenza ma nelle nelle scritture di maometto si vi ricorderete l'insurrezione che c'è stata e povero benedetto ha detto la verità ha citato la verità e le cose stanno così e noi speriamo in un'evoluzione perché l'ermeneutica l'interpretazione certamente cambia la situazione e anche i musulmani oggi stanno mutando l'ermeneutica e sconfessando quei versetti però ci sono quindi i monoteismi dobbiamo sfumare prima di accusarli io sono più propenso a dire il legame è tra religione e violenza e oggi quando voi vedete significativamente in Ucraina e Russia sono due chiese che si combattono quindi hanno lo stesso Dio lo stesso Cristo ma la miscela è religione e violenza nazionalismo e religione quelli causano effettivamente la violenza ed è quello che rischia di succedere ogni momento poi si disinnesca perché qualcuno interviene e fa vedere che la lotta non è tra Islam e cristianesimo come fece Papa Giovanni Paolo II al momento della guerra del Golfo quando Bush voleva la crociata dei cristiani d'Occidente contro l'Oriente e Giovanni Paolo II disse no no nessuna crociata il cristianesimo non è contro l'Islam disinnescò il famoso shock che era predetto da Huntington però è sempre lì è sempre facile perché nelle persone la religione cova sempre come una possibilità di diventare una passione di violenza che odia l'altro e che lo porta ad annientare beh Enzo tu di passione ne hai da vendere siamo contenti di questo perché stai recuperando insomma in un periodo dove hai dovuto combattere con qualche malanno ma andiamo avanti in questo affascinante ragionamento parlando di Chiesa Cattolica tu il tuo ultimo libro che è questo lo trovate anche fuori nel banchetto curato dagli amici della libreria Luxemburg dove va la Chiesa che è una raccolta di alcuni tuoi scritti negli ultimi tempi ecco in questo libro sostieni che il futuro della Chiesa della comunità cattolica sta nella sinodalità non si è appena concluso il sinodo una lettura forse superficiale dice che insomma non c'è stato nulla di nuovo sotto il sole del Vaticano perché in fin dei conti si è parlato tanto ma e poi alla fine è venuto fuori poco o nulla tu sei sei d'accordo con questa interpretazione qual è il tuo pensiero sulla sulla sinodalità so che ne parlerai anche prossimamente alla Madia forse in questo fine settimana ma dare un giudizio in questo momento io oso darlo e darlo con convinzione e motivazioni perché credo che ho seguito tutto questo tema dello svolgimento e della maturazione dell'idea del sinodo non solo con Papa Francesco ma voi potrete trovare dei miei articoli che risalgono agli anni ottanta in cui dicevo che l'unico futuro per la Chiesa cattolica è la sinodalità lo dicevo allora e anzi lo dicevo anche criticando quello che invece sembrava essere l'orizzonte indicato dalla Chiesa che era la collegialità cosa vi posso dire stamattina ho avuto quasi una motivazione di tristezza perché due diocesi del Veneto hanno scritto sul loro settimanale che l'ottantatré per cento delle parrocchie non ha mai parlato del sinodo in questi anni allora se il Veneto l'ottantatré per cento non ne ha parlato conoscendo bene l'Italia e sapendo che le cose sono certo a macchia di leopardo non sono uguali dappertutto ma ho l'impressione che possiamo dire che la grande maggioranza delle parrocchie non ha parlato né del sinodo né dato un contributo al sinodo questo significa certamente una debolezza seconda cosa ho letto un articolo di un mio amico molto serio professore di sociologia e un prete marzano di Asti il quale dice a conclusione del sinodo un articolo ieri credo una grande delusione il sinodo ha deciso nulla ha detto nulla tutti delusi e frustrati questo certamente sono due posizioni che mi interrogano tuttavia devo dire che pregliandole in considerazione non mi trovo pienamente d'accordo il sinodo io vorrei farvi capire in due parole senza sembrare un tecnico dell'architettura sinodale che sinodo era una realtà sconosciuta per tutti noi cattolici fino al tempo di Paolo VI Paolo VI sentì il bisogno per togliere dall'isolamento il Papa punta della struttura piramidale cattolica punta isolata di accostargli un piccolo organismo un collegio che si radunasse ogni tre anni rappresentativo dei vescovi del mondo ma non di tutti i vescovi del mondo perché tutti i vescovi del mondo sono quattromila adesso diventa difficile fare un concilio concilio Vaticano II erano duemila ma adesso sono quattromila fate un'assemblea di quattromila questi erano duecento circa eletti designati che si ritrovano un mese circa discutono alcuni temi li offrono al Papa quindi un organo consultivo e il Papa decide questo è il sinodo cattolico voluto da Paolo VI nel 67 e sono stati celebrati cos'è questo il 18 19 insomma fino adesso questi sinodi i Papi non li han cambiati a tre di questi sinodi ho partecipato anch'io due chiamato da Benedetto XVI come esperto il terzo chiamato da Papa Francesco di nuovo come esperto non avevo diritto di voto non essendo vescovo ma potevo intervenire sulla materia e normalmente i vescovi consultavano gli esperti perché i vescovi non sono esperti di tutto Papa Francesco ha capito che questo sinodo era insufficiente ma francamente Papa Francesco come tutti i vescovi annaspava nella nebbia e all'inizio disse proprio due giorni dopo e certo noi poi dobbiamo imparare dagli ortodossi anche il sinodo che loro hanno ma quando lo disse permettetemi di dire con tutto l'amore e tutta la riverenza che ho verso di lui lui come tutti i cattolici non sapeva cos'era il sinodo ortodosso perché il sinodo ortodosso innanzitutto è permanente non si raduna una volta ogni tre anni sono una decina di vescovi designati per alcuni anni che sono sempre insieme al patriarca per decidere insieme le cose la chiesa cattolica questo l'abbai conosciuto e non potrà mai conoscerlo perché la chiesa cattolica ha comunque il papa che non è un primus inter pares come il patriarca per gli ortodossi ma è il primo sopra gli altri gli altri devono stare gli altri vescovi con petro e sub petro con pietro e sotto pietro capite la differenza ma il papa ha avviato ha detto dobbiamo far qualcosa e mamman facendo prima cosa ha capito che quello degli ortodossi era troppo poco e ha voluto andare molto più avanti prima cosa ha detto beh al sinodo non chiamiamo solo vescovi chiamiamo anche gente non vescovi cioè religiosi suore uomini e donne mai vista una cosa così in duemila anni le donne che siedono con i vescovi le donne che hanno il diritto di parlare le donne i laici che hanno diritto di votare questo ha scandalizzato mezzo a chiesa cattolica i tradizionalisti sono in posizione di scisma dicono quella non è più la chiesa cattolica perché votano decidono quelli che hanno l'ordine non potendo le donne avere l'ordine questa è un'assemblea non conta nulla non ha valore ma il papa è andato avanti per cui sabato hanno votato il documento finale uomini donne preti religiosi religiose suore e vescovi certo le donne erano 54 i vescovi erano 260 però la voce c'era interpellati lo sono stati quindi vedete il passo rivoluzionario c'è non contiamoci storie è una grande innovazione che nessun'altra chiesa ha né gli ortodossi né i protestanti hanno usato tanto quindi quel che ha usato è enorme è enorme è una novità assoluta i temi da discutere erano tanti ma il papa è anche un uomo furbo lo dico nel senso buono questo papa è furbo non è ingenuo e ha capito che quando ci sono degli argomenti difficili è meglio che ci si ritrovi in due tappe per cui ha sdoppiato il sinodo ha fatto un sinodo che è finito sabato ma non è finito si riapre il prossimo ottobre 24 finisce ottobre 24 una seconda tappa che ripiglia gli stessi temi e in quest'anno si lavora sui temi quindi c'è un anno di lavoro adesso in cui soprattutto devono lavorare i teologi per mettere a fuoco bene diritto canonico teologia se funziona o no la gente dovrebbe intervenire e il prossimo anno ci saranno le decisioni la delusione qual è? perché ci sono soprattutto alcune decisioni che sono già state dette sono state discusse ma per ora non sono state votate quindi Marzano dice deciso nulla vale nulla ve le dico perché sono poi quelle che la gente interessa di più la prima ai preti ci si lascia la libertà di sposarsi o no attenzione devono assolutamente fare la scelta prima non è che un prete può sposarsi una volta diventato prete resta prete ma prima di diventare prete se si sposa poi può diventare prete da sposato prima possibilità seconda le donne si riescono a fare diacono almeno che si facciano prete impossibile nella chiesa cattolica questo state tranquilli passeranno ancora non so quanti anni se non secoli perché questo la chiesa cattolica come gli ortodossi non vuole capirlo ma forse diacone si deciderà ma è un argomento terza cosa la morale sessuale la chiesa capisce che la morale sessuale è cambiata nella società antropologicamente soprattutto c'è il tema dell'omosessualità secondo tutta la Bibbia è un peccato non è tra i comportamenti cristiani ma ormai in molte chiese si accetta che delle persone vivano insieme anche se sono dello stesso sesso queste la chiesa le lascia arrivare alla comunione o le ritiene in peccato e le esclude e addirittura può dare loro una benedizione attenzione non un sacramento non il matrimonio ma semplicemente una benedizione e qui c'è chi dice ma se la chiesa ha benedetto le mucche benedice i cani benedice i trattori benedice le moto ma perché non benedice due che si vogliono bene altri dicono no la Bibbia lo vieta è peccato e quindi si esclude per cui le posizioni lì sono contrapposte nel frattempo in Belgio Germania Inghilterra molti preti benedicono coppie omosessuali lo fanno già e hanno fatto anche una preghiera vi ripeto non è un sacramento non è il matrimonio è una benedizione si dice Signore porta del bene sul loro amore queste sono le cose al fuoco che non si sono decise per cui per molti si è deciso nulla e quindi questo sinodo si è concluso in un aborto dice il teologo gordo spagnolo gli altri dicono ma queste quattro cose si decideranno il prossimo anno si lasciano ancora maturare un anno discutere un anno nella chiesa e il prossimo anno vedremo io non credo che si faranno le donne diacono perché se si fanno le donne diacono si apre di fatto il ministero e quindi poi dopo si faranno prete che la chiesa cattolica oggi non vuole io vorrei una chiesa cattolica libera che inventa lei un ministero come hanno fatto all'inizio gli apostoli non hanno preso i ministeri dei giudei li hanno inventati e così faccia per le donne inventi dei ministeri in modo che le donne abbiano la possibilità nella chiesa di essere uguali agli uomini capaci di governare come gli uomini riconosciute come gli uomini questo sì altrimenti il cristianesimo non si è realizzato pienamente se Gesù diceva in Cristo non c'è più né maschio né femmina allora se questo Paolo lo dice lo ripete se noi vogliamo un cristianesimo vero diamo alla donna il posto che le merita mentre attualmente le donne sono tutte ausiliarie aiutano i maschi è una vergogna questo io lo dico come uscirne io dico si abbia l'inventività io ho paura che facendo le donne prete si clericalizzano di più e ci sono dei rischi si inventi un ministero in cui possono comandare reggere comunità avere gli uffici che hanno tutti gli altri perché no sono capaci abbiamo donne che sono capo di nazione e perché nella Chiesa non devono avere anche loro il posto come gli uomini io spero questo vedremo il prossimo anno certo adesso è un anno in cui si devono macinare tante cose e vedremo il risultato però credetemi aver aperto il sinodo a uomini e donne secondo me è un'operazione rivoluzionaria che nella Chiesa c'è mai stata è un grande passo sei un fiume in piena sono sono molto interessanti e provocatori e queste cose io avrei un'ultimissima domanda su cui ti chiederei di essere telegrafico poi vediamo se qualcuno desidera intervenire ma dobbiamo lasciare poi spazio all'incontro successivo ecco su questo libro dove va la Chiesa hai scritto mi ha colpito molto me lo sono annotato che Dio non sta più nello spazio della necessità anzi che Dio è addirittura una parola ambigua respinta dalle nuove generazioni perché spesso è legata al fanatismo religioso all'intolleranza alla violenza dove sta il futuro ma questo non è un discorso facile è un discorso che so bene sono uno dei pochi a fare e ad aver aperto qualche anno fa ma io vi dico due cose la prima noi siamo cristiane e quindi noi crediamo innanzitutto in Gesù Cristo Dio per noi è una parola insufficiente e ambigua quello che vi sto dicendo lo diceva Clemente Romano uno dei primi padri della Chiesa a Roma di fronte ai pagani diceva Dio per noi è una parola insufficiente tutti hanno Dio anche i pagani e mi verrebbe da dire anche gli africani tutti hanno Dio o hanno gli dèi il problema non è avere Dio il problema è che cosa metti tu dietro quel Dio che dici perché Dio è un nome Teos Deus Zeus ma cosa metti dietro Dio che immagine hai di Dio perché può starsi benissimo che uno si dica cattolico e dica creda in Dio ma se poi ci confrontiamo lui non ha il mio Dio vi faccio un caso arriva la pandemia lui è cattolico e comincia a dire la pandemia è venuta perché gli uomini hanno peccato e siccome fanno dei peccati Dio li punisce con la pandemia io concludo il suo Dio non è il mio Dio eppure lui va in chiesa parla di Dio come me quando il patriarca di Mosca me ne dice i missili in questa guerra contro l'Ucraina e dice che una guerra contro l'Occidente in nome di Dio perché l'Occidente è corrotto pieno di peccati compresa l'omosessualità il suo Dio non è il mio Dio io vorrei che uno dicesse il mio Dio è Gesù Cristo perché Gesù Cristo ha parole precise Gesù Cristo è il Vangelo e il Vangelo è Gesù Cristo ha un volto non lo faccio io il volto di Dio di Cristo il volto di Dio lo posso costruire io in più guardate che nel mondo Dio per le nuove generazioni è sovente legato al fanatismo al terrorismo all'intolleranza non gode buona fama Dio adesso e concludo col Vangelo che è sempre quello che mi convince di più avete presente il prologo di Giovanni Dio nessuno l'ha mai visto nessuno miei cari e nessuno lo vedrà se non nella morte e Giovanni lo dice in modo lapidario nel prologo Dio nessuno l'ha mai visto continua ma Gesù Cristo ce ne ha fatto l'esegesi exeghesato Gesù Cristo ce lo ha raccontato quindi di Dio devo credere semplicemente quel che mi ha raccontato Gesù tutto il resto me lo racconti la chiesa me lo racconti Caio Tizio non devo crederci devo crederci al Dio raccontatemi da Gesù e per questo Gesù ha potuto dire Filippo che gli diceva fammi vedere Dio Filippo chi ha visto me ha visto il Padre chi ha visto me ha visto Dio questo è il cristiano tutti gli altri sono uomini religiosi penso grazie in questa lunga conversazione appassionata abbiamo capito tanto del termine radici che è poi il motivo di questo festival sono contento che qui proprio al circolo dei lettori ci possano essere delle occasioni offerte direi in regalo alla nostra meditazione perché questo è il miglior ingrediente per far sì che non cediamo ecco allo sgomento di fronte a quello che sta capitando nel mondo nel nome di un Dio che probabilmente viene costruito ecco da da uomini e donne che non è il vero volto diciamo della pace e forse anche del futuro direi ci lasciamo così augurandoci un buon proseguimento di serata e per chi desidera c'è la possibilità di fare anche così qui in amicizia ancora due parole con Enzo grazie a tutti e a presto grazie a tutti